Benvenuti sul nostro canale. Con questo quadro chiudiamo il tema dell'amore. Secondo voi quale sarà il prossimo tema? Scrivetelo nei commenti e se non siete ancora iscritti scrivetevi come state vedendo ora. Buona visione! Ultimo quadro della serie dell'amore. Il ciclo si è completato dell'amore e la persona, la donna in particolare, rimane sola. Per accentuare questa sensazione di solitudine come vedete ho utilizzato delle figure un po' geometriche che creano un minimo di tensione. I colori sono molto tenui, hanno così da sottolineare la tendenza a diventare la cosa tutta evanescente. Quindi tutto si stempera nella vita, si nasce, si vive e si muore e tutto ricomincia. Così. Grazie a tutti.